Il CNEL da 12 anni con Istat ha elaborato l'indicatore di benessere equo e sostenibile, i cosiddetti BES, che adesso nel tempo sono stati assunti dall'Europa e legati all'agenda 2030 delle Nazioni Unite, che sono i cosiddetti SDG, di cui abbiamo discusso anche oggi al CNEL. In realtà con ASVIS abbiamo una convenzione perché il futuro dell'economia e anche del pianeta è legato al cambiamento del modello di sviluppo, come si dice, verso un sviluppo sostenibile, non solo socialmente, che era la cosa che anche noi seguivamo in passato, ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Purtroppo gli indicatori nazionali, come noi abbiamo già visto e commentato un po' di tempo fa, non vanno molto bene. La maggioranza sono in regresso, quindi non miglioriamo, ma peggioriamo. E oggi sentiamo questi indicatori sul territorio e purtroppo vediamo che si allargano le differenze fra territori, nord e sud in particolare, ma anche dentro nelle aree persino del nord, le aree interne in particolare, tra l'altro su Quicnell, ha un focus specifico, abbiamo fatto una serie di ricerche. E quindi a maggior ragione la priorità orizzontale del piano nazionale è fondamentale, quella di ridurre i divari territoriali, che non vuol dire solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo sentito anche dei dati terrificanti sui rischi geologici, idrici, la siccità. Insomma, purtroppo l'Italia è uno dei paesi più fragili, oltre che bellissimo, e quindi dobbiamo intensificare intanto le analisi che queste ci servono per decidere bene e poi soprattutto accelerare gli investimenti del piano in questa direzione.